Tre motrici per trainare semirimorchi e un'auto distrutte da un incendio di dubbia matrice. I mezzi erano parcheggiati all'interno del piazzale di un'officina che si trova sulla provinciale 7, Comiso Chiaramonte. La segnalazione al comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata all'una della scorsa notte. Sul posto la squadra operativa del distaccamento di Vittori e quella del distaccamento volontario di Santa Croce Camerina, nonché per il rifornimento idrico di un autobot della sede centrale. Circa 15 vigili del fuoco che si sono adoperati per sedare le fiamme. L'intervento è durato circa due ore. Le tre motrici, di proprietà del titolare dell'officina che ha anche un'azienda di autotrasporto, sono andate completamente distrutte, così come l'auto che era parcheggiata nella zona dove si sono sviluppate le fiamme. Solo quest'ultimo mezzo non era di proprietà del titolare della ditta di autotrasporto. In genti i danni, circa 300.000 euro. Le tre motrici erano coperte da assicurazione, incendio e furto. La zona è sprovvista di telecamere di videosorveglianza. Il titolare ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento di pizzo e che ha preso in gestione l'officina dal mese di novembre scorso. I mezzi si trovavano parcheggiati nell'area esterna perché all'interno non c'era spazio. Ad indagare sull'episodio i carabinieri della locale stazione. Sul posto stamane anche gli agenti del commissariato di Comiso.